Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati in un nuovo episodio dedicato al CSA con Vittoria 2. La situazione sembra veramente tragica ed effettivamente la è, nel senso che dopo aver vinto una guerra di secessione e dopo aver praticamente vinto una guerra contro il Messico, io non riesco ad aggiungere war goal a questi fetenti perché il nostro gingoismo è troppo basso. Adesso, nonostante questo, gli Stati Uniti hanno una tregua con noi fino al 29 aprile del 73, dopodiché sono quasi sicuro che ci attaccheranno, io allora dovrò aver finito questa guerra perché devo cercare di ottenere l'alleanza dello UK che adesso gli dice no, non accetta meno 72 ma credo perché sono in guerra. Quindi cerchiamo di portare in alto il UK e iniziare questo episodio cercando di vedere di quanto mi sale tutti i mesi il gingoismo. Adesso siamo a 61-58% e se le cose vanno male, niente, lasciamo perdere, chiudiamo la guerra con il Messico in cui tra l'altro adesso abbiamo anche conquistato la capitale e fine, ci prepariamo alla guerra contro gli Stati Uniti. Quindi, questi continuano ad offrire la pace bianca giustamente perché 6 e 22, no, sale troppo lentamente. Va bene, dai, accettiamo sta pace bianca e pazienza. Ok, pace. Adesso, demobilitiamo immediatamente le nostre forze, prendiamo i nostri eserciti, military, soltanto un'armata di Yankee e Lexington, va bene, e ci dobbiamo preparare a due cose. Prima la rivoluzione da parte degli estremisti liberisti, che ovviamente stanno prendendo il controllo e io li lascio fare perché voglio porre fine alla democrazia. Anche se preferirei avere un governo del... dove sono? Degli America Party, credo che anche i populist... No, scusate, sono gli anarcho-liberali, i Democrats. Free trade, SFR, pluralismo, residenza, gingoismo, non sono male. Posso fare una riforma? Basic school system, subito. Non me ne ero accorto. Ma la cosa più importante in assoluto... Meno 69, eh che palle. Però niente, lo UK non ci offre l'alleanza. A questo punto dobbiamo trovare altre alleanze, ragazzi. Il Messico, certo. Chi è che potrebbe dare delle botte agli Stati Uniti? La Francia non accetterebbe. Vabbè, le alte potenze sono assolutamente inutili, cioè... Ma poi non accetterebbero. L'unica idea potrebbe essere quella di formare alleanze con paesi del Sud America. Cosa che comunque... Il Venezuela potrebbe essere candidabile, così come la Colombia. Però adesso soltanto il Venezuela. Togliamo la pausa. Uniamo i nostri eserciti e poi li portiamo a Richmond. E aspettiamo che... A questo punto la... La rivoluzione abbia inizio. Abbiamo veramente pochissimi uomini. Altri anarcho-liberali? Va bene. Sfogatevi, ragazzi, ma fate sta cazzo di rivoluzione. Non so che cosa ho schiacciato, però ho sentito un... Ok. Intanto pompiamo le tariffe finché si può. Visto che abbiamo pochi soldi dovuti soprattutto a... Gli USA vogliono passare dalle mie parti con chi sono in guerra. Non accetterebbero. Troppi alleati. Distanza, tipo di governo. Sì, insomma, il problema è che meno 66 è troppo. Il Venezuela accetta. Meno 30. Continuiamo a migliorare le relazioni con i venezuelani, anche se... Va, un'alleanza con i venezuelani... Cioè, veramente, siamo in una botte di ferro, eh. Railroad massime, vai. Army. Army risk management. Aumentiamo il morale e le tattiche. Questa guerra sarà difficilissima quando gli USA ci attaccheranno perché si sono pompati in un poco. Ok. Upper house we arranged, ragazzi. Gli anarcho-liberali hanno ottenuto il controllo del paese. No voting. Political reform ruling party only. Political reform meetings not allowed. State press only. Illegal meetings. E only underground party. Orrore. Orrore un cavolo. In realtà sono felicissimi i West. Portiamo i nostri uomini a Richmond. E se soltanto avessi il tempo per farlo, adesso aumenterei di tanto. Oh, merda. Ma è il casino, ora. Non abbiamo i soldi per mantenere l'esercito. È una cosa meravigliosa. Vediamo tutte le fabbriche chiuse, tranne... In Texas i liquori. Normale. Sì, Messico. Passa, passa pure. Fai quello che vuoi, Messico. Eccoli! Eccoli! Eccoli. Io adesso vorrei fare un'alleanza. Questi figuriamoci. Adesso siamo pure in guerra. Non accetteranno mai. Il Venezuela non accetterà mai. Che palle. Quindi, 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 ragazzi, siamo nella merda totale. 49. Portiamo tutti a Richmond. Mobilitiamo. Mobilitiamo tutti gli uomini vicino Greenville, magari. Non mi ricordo dov'era l'altro meeting point. Era Dallas, se non sbaglio. No, Houston. Deselezioniamolo. E adesso, però, si gioca a velocità 3, perché abbiamo la necessità assoluta di usare trucchetti in cui si usano delle esche per attrarre le armate di quasi 51.000 avanti. E poi si cerca di portare, che so, altri 150.000 uomini a supportare la difesa. Vediamo qual è l'obiettivo degli Stati Uniti adesso. Scusate. Annext CSA. Allora, devono avere il 75% del territorio entro 730 giorni e stiamo parlando, quindi, di più di due anni. Quindi, l'ottobre del 1874. Se noi resistiamo fino ad allora, non ottengono i punti vittoria. Noi, a nostra volta, dobbiamo pararci le natiche e sperare che tutto vada per il verso giusto. Difesa 5. Vai all'Onochi. Questi arrivano all'Onochi il 3 ottobre. I nostri arrivano all'11. Niente, allora rimanete qua. E dobbiamo cercare di utilizzarli come esca. 21.000 uomini sulle montagne con un generale a difesa 5. Oppure, scusate, se si potesse andare a Richmond. L'importante è che questi uomini vengano intercettati dai 44.000. Vediamo se ci sono altre truppe. 38.000 uomini che si stanno prendendo Utah, Nevada, eccetera. Questi li abbiamo già persi. E io qui ho dei contadini che gigioneggiano, poverini. Vabbè. Vediamo se ci attaccano. Questi vanno a Lexington adesso. Seriamente? Non c'è una parola. A Lexington? Ma... E se io andassi a Washington? La speranza è che questi pischelli... Fermi. Quando ci arrivano il 27 ottobre? No, ti prego. Gesù. Ma che cazzo ha fatto sto corpo? Era appena nato. Vai all'unoki. Quindi praticamente abbiamo 21 che fanno da esca contro i 50 e poi ne portiamo altri 30 a supportare. Se siamo in difesa con un generale che ci dà più 5 non è male. Fermi. Questi vanno all'unoki il 24. Noi ci siamo il 18. È esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Avanti tutta. 22 e 19. Questi arrivano al 24. L'importante è arrivarci prima ma non troppo. Perché sennò questi si fermano. 18. Mamma mia ragazzi. Che stress. 24. 18. Questi quando arrivano il 4 dicembre. Ok. Dobbiamo tenere duro fino al 4 dicembre. Però abbiamo effettivamente... Scusate voglio vedere la battaglia. Abbiamo un generale che ha 5 come forza. L'attaccante ha 3 però ha meno 2 e meno 1 per le montagne e il fiume. Quindi da un punto di vista del generale siamo messi meglio noi. E adesso anche degli uomini. E infatti li stiamo tritando bene. Ragazzi ottimo. Infatti abbiamo preso 4 punti con questa battaglia. E adesso andiamo a Washington direttamente. Tutti. Passando per fottutissima Ronocchi. Via tutti a Washington. Questi ci stanno ovviamente assediando la città di Richmond. Ma credo che abbiano fatto mali conti. Perché noi gli prendiamo la capitale anche noi. E poi voglio vedere cosa succede. Porco cane. Soltanto 11 uomini. Ah ecco. Basta. No ragazzi hanno tantissimi uomini. Cioè giocare col CSE è praticamente impossibile. Almeno per me. Io non sono capace. Cazzo. Come faccio a vincere con questi? Eh cioè dovrei perdere e dargli qualche territorio magari. Però loro hanno come obiettivo la conquista totale. Quindi bah. Ecco che vengono. Ecco che attaccano. Pano Ronocchi. No in realtà stanno scappando. Beh è strana sta cosa. Non vogliono prendersi Washington? Boh. Per adesso la guerra come sta andando? 9% per gli Stati Uniti. Ah vabbè. Vediamo se sono tanto stronzi da caderci di attaccare Miss Thawnton. Vediamo. Sì sì attaccano. Hard D. Ah però Hard D ragazzi è... Non è quello sbagliato. Vabbè. Quando arrivano il 14 di febbraio. Arriviamo il 12. Vediamo. Eh sono scemi però. Sono proprio scemi perché si sono buttati contro un grandissimo generale in difesa. E anche in questo caso perdono tantissimi uomini. E quando dico tantissimi intendo veramente tanti. 5 punti. Dov'è che vanno a Wheeling? Inseguiamoli. Inseguiamoli ragazzi. Se facessimo un wipe out di questo stack feel. Cioè accendo un cero in chiesa. In cero in chiesa. Giuro che accendo un cero in chiesa. Dove vanno questi Amanastas? Ovviamente non supportano i loro amici a Wheeling. No no. Pazzesco. Ah stanno cercando di riprendersi Washington. È il momento per noi di riprenderci a questo punto. Richmond. Ah intanto sono arrivati altri 35.000 uomini. Che però non sono. Infatti non sono. Cioè ragazzi hanno troppi uomini. Hanno troppi uomini. Noi giochiamo con. Con la metà della metà delle loro fottutissime truppe. Questa guerra è persa ragazzi. Io devo chiedere di nuovo una pace bianca se possibile. Perché. Perché non posso fare. Perché non posso chiedere a questi sommari bastardi una pace. Dai velocità 5 perché qua mi sono rotto le palle. Cioè è finita. È finita ragazzi l'epopea del sud. Niente andiamo a riprenderci Richmond. Andiamo a riprenderci Richmond. E lasciate che queste bestie infami. Prendano il controllo del nostro territorio. Perché comunque non ci attaccano. E noi cerchiamo di riprendere il controllo dei nostri territori. Ma è chiaro che questa guerra finisce male. È chiarissimo che finisce proprio male. Cioè se non fosse che questi sono talmente scemi da attaccarmi tutte le volte. Boh. Ma sono stronzi forti. Ok. Eh devono prendere tutti questi stati e hanno un anno di tempo. E ce la fanno. Ma porco cane. Hanno un anno di tempo. Ce la fanno. Perché adesso mi distruggono l'esercito. Nonostante le stiano prendendo. Merde. Adesso li andiamo a prendere Washington un'altra volta. Vaffanbagno. Che gioco ragazzi. Il fatto è che hanno troppi uomini. Cioè avrei dovuto probabilmente portarmi più stati dalla mia parte. Non lo so. Ma è un casino. È un casino di proporzioni bibliche. Continuiamo a cercare la pace. Ma non lo otteniamo. E pensare che con la prima guerra li avevamo completamente Eh... Li avevamo quasi completamente Fatti fuori. E poi si sono ripresi in questo modo. Vai a capire come. Con qualche evento forse. Non lo sapremo mai. Ok. 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 Il fatto è che loro hanno la mia capitale e questo non sta bene. Ok. Riprendiamocela. Intanto guardate. Guardate. Questa è la fine di un'epoca. Ragazzi. È la fine anche di una partita vittoria. Molto probabilmente. C'è la probabilità eh. Cioè non piangiamo se questo dovesse accadere però. C'è la probabilità. Che l'unione alla fine riesca a ripaparci. E nel caso niente pazienza. Ok. C'è ovviamente per me l'obiettivo è la pace bianca. Potrei anche aggiungere war goal ma chi se ne frega. C'è gli Stati Uniti a distanza praticamente di un anno e mezzo sono al 6% di punti. Che onestamente con gli uomini che hanno è un pochino una sconfitta per loro. Però per me. Spero che abbiano portato poi tutti gli uomini a prendere il controllo di Washington. Niente. E vedete loro prendono il controllo dei territori. Noi anche. Nel frattempo l'ottobre del 74. Quando è iniziata questa guerra perché erano due anni l'obiettivo. 730 giorni. Quindi questa guerra è iniziata quando? Non me lo ricordo. E nel 73 forse? Che cazzo ne so. Oh 81 contro 27. Andiamo bene. E qui è il momento in cui ci asfaltano. Seriamente? Ragazzi abbiamo distrutto 80.000 uomini. Ragazzi. Ragazzi abbiamo fatto un wipe out. Di. Cioè è una cosa. È una cosa pazzesca. Correte tutti a Washington a prenderla. Abbiamo fatto un wipe out di 80.000 uomini degli unionisti. Che ci hanno attaccato. Il nostro grandissimo generale Robert Lin. Difensiva. Li ha inchiappettati veramente powerful. Powerful li ha inchiappettati. Da Danimarca va in banca rotta. Presto ci andiamo anche noi. Perché guardate che casino. E non posso alzare le tasse perché porco cane. C'ho sti babbei degli anarcho-liberali che dicono. E no eh. Meno stato più mercato. Ma vaffanculo. Scusate. No è già finito il tempo. Ragazzi sarà l'ultimo episodio. Il prossimo. Della serie. Le probabilità ci sono tutte. E la cosa divertente è che gli Stati Uniti. Con l'American Restoration of Order of the Confederated. Le stanno prendendo. Meno 10%. Io faccio un Goon War Goal. Acquisire un core. Willing e Huntington. West Virginia. Io la metto. La metto sta cosa. Willing e Huntington non sono difficili da recuperare. E le voglio proprio andare a prendere. Nel prossimo episodio vediamo se funziona. Io vi ringrazio per essere rimasti con me. Mi raccomando. Incrociate le dita perché la seconda fase della guerra tra Stati Uniti e CSA è in corso. E gli Stati Uniti, porco cane, sono forti. Sono fortissimi. Ma c'era una cosa di cui non ci siamo accorti. Il Messico ha dichiarato guerra agli Stati Uniti. E gli sta rompendo le palle a sud. E secondo me abbiamo fatto fuori gli 80.000 uomini dell'Unione. Adesso questi hanno veramente pochissimi uomini. Se inizia ad occupare West Virginia ed altre province magari guadagno punti. Chi lo sa. Incrociate le dita ragazzi. Io sto per morire. Ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie. Grazie.